Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Il Partito Democratico ha compiuto dieci anni. Le battute si sono sprecate. C'è chi ha scritto che finalmente ha lasciato il biberon e chi, con ingeneroso sarcasmo, lo ha liquidato dicendo che è ancora bambino e per di più scemotto. Al cronista che gli ha fatto notare la coincidenza non proprio beneaugurante della festa di compleanno con il commissariamento della Federazione Irpina, l'ex senatore Enzo De Luca ha risposto che ora è tempo per il PD di diventare una comunità politica. In verità ci si accontenterebbe se il PD avedenese diventasse almeno una comunità umana. Finora, con tutto il rispetto e l'affetto per gli animali, è stato uno zoo.